buongiorno a tutti amici della punto gt oggi siamo in in lussemburgo confine col belgio abbiamo fatto un po di benzina alla gt ecco i prezzi sono abbastanza buoni abbiamo messo della 98 questa qui non c'è una 108 anni la macchina è mappata per la 100 però è un 98 mettiamola la super rossa e adesso facciamo un piccolo giro nelle strade qui intorno aspettate che mettiamo camera qui perfetto eccole qui le chiavi siamo pronti per partire vi va sempre la punto gt ok partita il primo colpo apriamo il tettuccio giù i vetri e si va qui siamo in una zona di confine e quello che c'è di buono che si trova il carburante ad un prezzo più basso rispetto al belgio anche se siamo a pochi chilometri di distanza ora prendiamo una piccola stradina di collina perché qui montagne non ce ne sono però si sa che la gt ama molto di più il dritto ma vediamo un po come si comporta anche qui che si fa si fa è Scaliamo fino in terza, vediamo se sale bene. Grazie a tutti. C'è un piccolo rettizio. Ok, ha frenato. Vediamo di metterci un po' più avanti qui per fare magari una piccola partenza. Facciamo una piccola inversione di marcia. Per ora, dobbiamo farcela. Non c'è nessuno. Aspetta, ecco qui. Vediamo un po'. Allora, mettiamoci in seconda. Siamo in terza, 3.000, 4.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 6.000. 5.000. Vediamo se c'è la macchina. Non vedendo nessuno. Proviamo a fare un... 40.000. 110.000. Il tutto 2.400. 10.000 Il tutto 5.000. Va bene. Dopo. PASCA 3.001. Adesso. Pettiamo un po' di musica facciamo una piccola panoramica dall'esterno eccoci qua col motore che è già bello caldo e lo scarico che sborbotta un po' però non fuma quindi ok